In città è polemica, dopo la decisione del Comune, di far pagare alcuni spettacoli della perdonanza celestiniana. Questa è una delle novità dell'edizione dell'evento celestiniano, 725esima edizione, che prenderà il via il 23 agosto e che culminerà, come sempre, con il corteo storico della Bolla, il 28, che vedrà quest'anno, a differenza dello scorso anno, Dama e Giovin Signore di nuovo a fianco, di nuovo insieme. La città si divide, per alcuni è giusto pagare i concerti, per altri è inaccettabile in una festa che è sempre stata gratuita per la città dell'Aquila e che gode, peraltro, di fondi pubblici. Ad ogni modo, il vice-sindaco Raffaele Daniele ha confermato che ci saranno dei biglietti a pagamento. Il Comitato Perdonanza, nei prossimi giorni, chiarirà tutto. Fatto sta che la scelta è scritta a chiare note in una postilla, che è pubblicata in calce al programma completo della perdonanza. Nella postilla si legge chiaramente che per la serata inaugurale del 23, per il musical del 24, per lo spettacolo di Brignano del 25 agosto e per il concerto della Mannoia il 29, sarà possibile prenotare i biglietti sulla piattaforma Eventbride. Per alcuni eventi i posti a sedere saranno a pagamento, il ricavato sarà usato, si legge ancora dal Comitato, per sostenere i giovani che intendano formarsi all'Aquila, di più per ora non è dato sapere. Di certo la decisione ha scatenato più di una polemica, tanto che qualcuno si è affrettato a dire che anche le autorità e le prime file pagheranno il biglietto. Daniele ha pure specificato che la scelta è legata al fatto che alcuni artisti si esibiranno gratis per la città dell'Aquila, ma avrebbero manifestato al tempo stesso la volontà di lasciare qualcosa alla città. Il vice sindaco ha spiegato che il costo sarà solo simbolico e i fondi andranno a un progetto sociale importante. La formula sarà decisa in queste ore.